Il report sull'attuazione delle misure previste dalla legge regionale contro la ludopatia è stato illustrato all'Assemblea Legislativa dell'Umbria dal Presidente del Comitato per il Monitoraggio, Raffaele Nevi. L'esponente dell'opposizione ha messo in evidenza tutte le azioni che la Giunta di Palazzo Donini avrebbe dovuto attivare, ma che invece sarebbero rimaste sulla carta oppure partite con forte ritardo. Diversa la valutazione della Vice Presidente del Comitato, Carla Cacciari, secondo cui anche se con alcuni rallentamenti dovuti al fatto che c'è stata una modifica di legge e alla complessità di azioni che vedono lavorare insieme e professionalità diverse, la legge ha avuto un suo percorso ed ha attivato una rete di collaborazioni importanti. Nel dibattito che ha eseguito il consigliere Luca Barberini, Partito Democratico, ha rilevato che nella legge ci sono aspetti inapplicabili mentre gli sgravi fiscali devono essere solo per chi vuole togliere le slot machine. Per Valerio Mancini, Lega Nord, il problema è che il governo Renzi autorizza, 30.000 esercizi in più per l'azzardo, mentre la vera medicina è togliere le slot. Secondo Claudio Ricci, Ricci Presidente, sarebbe importante anche avere l'aiuto delle amministrazioni locali sugli spazi destinati a tale tipologia di gioco per controllare se ci sono tutti i requisiti che li rendono adeguati. Infine Andrea Liberati del Movimento 5 Stelle ha definito la ludopatia un azzardo di Stato che non può essere eliminato a causa dei conflitti di interesse dei politici nazionali.